lanciamo un sondaggio ha giocato peggio la juve stasera o contro il sassuolo secondo me hanno giocato molto peggio stasera molto peggio stasera questa è una squadra che senza alcuni senza due o tre elementi massimo è di una povertà tecnica disarmante quarto posto quarto posto ma bisogna baciare per terra se si arriva a quarti se siamo questi ora che è bastata l'assenza di vlaovic no di van basten di vlaovic e si vede tutto oggi veramente una partita pessima l'atalanta secondo me meritava di portarla a casa indubbiamente ribadisco questa è una squadra di una povertà tecnica assurda e qui l'allenatore c'entra poco c'entra veramente poco ragazzi io oggi ho visto soprattutto se era portato le partite di ieri quale povertà di manovra e di tecnica abbia questa squadra ragazzi forse io comincio a dare ragione a chi pensa che i nove scudetti hanno dato in testa più di qualcuno non siamo più quelli dei nove scudetti quando io ieri dicevo che questa è l'inter di mazzarri questa è l'inter di mazzarri sputata un paio di ottimi giocatori ma per il resto una squadra mediocre scesi la stava rifacendo la cazzata meno male che quello la cop miner se non sbaglio l'ha buttata alle stelle appare poi ha fatto un paratone sulla punizione di muriel che vabbè gli salva la partita l'atalanta bella squadra dei giocatori onestamente non so se il nostro centrocampo sia superiore a loro veramente lo dico magari i fagioli miretti cresceranno sicuramente cresceranno perché a me miretti è uno che piace nonostante abbia ogni tal delle amnesie però ragazzi chi dopo aver visto questa partita senza il solo vlaovic senza il solo vlaovic dopo aver visto questa partita pensa che il male della juventus sia l'allenatore si dia al curling veramente lo dico si dia al curling con tutto il rispetto per questo sport dove io non ci capisco un cazzo chiaramente visto che loro sono più intelligenti di noi loro pensano di essere più intelligenti di noi si diano al curling oggi è apparsa in tutta la sua evidenza la pochezza di questa squadra veramente danilo in difficoltà con de ketelare a proposito milanisti un giorno vi pentirete su de ketelare naturalmente i nostri esterni sovrastati signori cambiaso non è alexandro ma non è neanche caprini cambiaso ok giocava e neanche sempre titolare a bologna l'anno scorso quindi cominciate a calarvi nella dimensione di questa squadra che è stata distrutta per la seconda volta l'altra volta fu tutta ad un botto stavolta a tappe è stata distrutta questa squadra dalla proprietà ecco che ce l'ho tanto con la proprietà però tanto siete ancora convinti di festeggiare l'abbassamento del mondo in gaggi risparmiare sugli ammortamenti non spendere troppo siete ancora contenti che sia la strada ma siete ancora convinti che sia la strada maestra questa signori questa squadra così com'è torna a vincere fra non meno di cinque sei anni così com'è torna a vincere tra non meno di cinque sei anni cominciate a ma la cosa più grave che io dico sempre io non ho io ho vissuto i nove anni senza vincere gli scudetti ma io porca puttana avevo davanti maradona van bastere matteus eppure ho vinto una coppa italia una coppa uefa con quelli lì e due coppe uefa c'è quella combate di baggio io avevo maradona van bastere matteus klinsmann davanti careca viagli e mancini oggi chi cazzo abbiamo davanti riusciamo a essere peggiori di questi come rosa qui il tecnico c'entra fino a un certo punto ok via allegri diamo questa squadra in mano al tanto sannato roberto del zerbi sì magari impareremo a fare 27 mila passaggi di fila ma con questa squadra qui arrivi ottavo nono vi dico una roba senza vlaovic e chiesa il sassuolo di del zerbi era più forte di questa squadra e non per l'allenatore per i giocatori veramente una squadra scandalosa oggi si è vista proprio la mediocrità mamma mia si è vista proprio la mediocrità tempi durissimi ci aspettano ragazzi tempi durissimi ma già lo so che il colpevole di stasera è una persona sola oggi abbiamo preso un punto di culo abbiamo preso un punto di culo ribadisco abbiamo giocato molto peggio oggi che col sassuolo a quanti fatti oggi hai fatto un paio di tiri del primo tempo dove non mi erano dispiaciuti il secondo tempo una pena una pena poi parliamo dei singoli chiesa mi spiace ma oggi non becchi la sufficienza troppo testardo un paio di volte nel primo tempo poteva servire il compagno in aria non l'ha servito si è intestardito a dribblare tutti e invece c'era ken solo davanti alla porta e non gliela data quindi ogni tanto quando dico non arrivano palloni alle punte se non glieli danno ogni tanto rabbio male anche oggi rabbio oramai serve solo per farsi ammonire male anche oggi danilo così così gatti ha fatto una cazzata che ci stava costando carissimo nei minuti di recupero bremer si è fatto male il migliore della juve oggi manuel locatelli il migliore della juve oggi manuel locatelli davvero lo dico manuel locatelli il migliore della juve di oggi è un po e mckenny mckenny ha fatto una partita discredita finché è durato finché è durato siete convinti che a destra una volta avevamo dirivio oggi abbiamo mckenny che sei anni fa avevamo danni alves e ora abbiamo mckenny o siete ancora convinti che questa è una squadra che può vincere lo scudetto boccaloni voi che seguite a quel vabbè ho visto un video di chinosci bellissimo come l'ha sputtanato il sassuolo contro di noi sembrava era definito una squadra di serie b batte noi è una squadra di serie b non possiamo perdere con boloca mateus enrique eccetera eccetera contro l'idri vede il sassuolo gioca bene così cosa e voi boccaloni che ci cascate boccaloni che siete chicco oggi non mi sei piaciuto per niente mi sei piaciuto è vero prendi iniziativa però la palla la devi dare certe volte abbassa la testa e oh è l'unico campione benissimo può darsi sia il giocatore più forte ma avete mai visto giocare del piero avete mai visto giocare robibaggio avete mai visto giocare paolo di canio l'avete mai visto giocare paolo di canio secondo me si dà la patente di fenomeno troppo presto oggi ad allenatori a calciatori tutti siamo eccessivi nel bene nel male non abbiamo equilibrio e non guardiamo con oggettività la realtà e la realtà ci dice che questa non è una squadra che può vincere un cazzo va bene ai quarti di finale di coppa italia ti tocca al 90 per cento in napoli sei fuori l'hai capito o no che sei fuori non vinci un cazzo neanche quest'anno e forse per i prossimi 5 o 6 non vinci un cazzo e ringraziamo di cuore la proprietà di cuore ringraziamo la proprietà ma ha ricapitalizzato tutti hanno ricapitalizzato durante il covid non solo lui perché il Manchester City non ha ricapitalizzato il Barcellona non ha speso ugualmente non ha fatto debiti il Real non ha speso il Bayern non ha speso il Paris Saint Germain non ha speso e non veneremo io con la scusa degli sceicchi perché questa è una proprietà che economicamente può giocarsela e come con gli sceicchi porca troia e invece dobbiamo stare ad assistire a questi spettacoli avvilenti avvilenti l'Atalanta meritava di vincere 2-3-0 nel secondo tempo veramente salvo solo il clean sheet oggi salvo solo il clean sheet mediocrità assoluta ma non voluto ma non perché non è non ben allenata questa squadra perché non è capace di fare certe cose quando volete la costruzione dal basso il possesso palla questi non lo sanno fare puoi metterci anche Dio sulla panchina questi non lo sanno fare prima vi entra in quella cazzo di zucca meglio è iscrivetevi al canale